Eccoci qua, eccoci qua, ciao a tutti, io sono Michael, sono qua per fare ciattolette. Vediamo se qualcuno mi sente. Ciao, chi c'è? C'è qualcuno? La befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte. Ciao. È difficile trovare qualcuno. Qualcuno... Prima abbiamo visto Obama, però... Andiamo avanti, va, che qui non c'è nessuno. Ciao, ciao, dove sei? Sei... Cos'è qua? Ah, è impossibile, una foto. Un fiore, ciao a fiore, niente. Ciao, c'è qualcuno? Si sente qualcosa, ma non si vede niente. Niente. Ciao, oi, sei tu? Niente. Ciao, ciao. Lui era Joker. Ha fatto i baffi per me. Complimenti, siamo in Italia qui, però non c'è nessuno di... Ciao, finalmente qualcuno? Niente, nessuno, con le cuffie che non si sente niente. Ciao. Ciao, mi senti? Dimmi di sì, fammi di sì. Bravo. C'è qualcuno? Si sente volume? Ciao. Tutto bene? Buon anno. Scusa, scusa, canto, ciao. Che gente maleducata qui, che esiste. Cosa fa questo? Oddio, ma guarda te. Che gente, oh. Non sarò io più bello del mondo, ma loro con... Con le mani, con la mano chissà dove, non si fa. Chi è questo? Niente, andiamo via. Ah, sta ancora cercando, scusate. E oggi è una giornata un po' di merda. Oggi è il 1 gennaio e si sa, la vita è strana. Ciao, c'è qualcuno, sento qualcuno. Ciao, ciao, tutto bene? Buon anno. Ma te ti conosco, no? Buon anno. No, dai, ma perché? Ma siete proprio maleducate. Maleducate. Maleducate, vaffanculo. Cioè, mi fanno il dito medio. Ormai non c'è più mondo qua. Non c'è più Italia. Italia fa schifo. E si vede solo da queste persone. Ciao. Ciao. Ciao, c'è Jim Moritz. Tu sei Mika? Tu sei Mika? Ciao, Mika. Ciao, Paolo. Ciao, Paolo. Chi sei? Buon anno. Buon anno, eh? Niente, sono andato. Certo che io non sono un buppo. Ieri sera con Cristiano sicuramente facciamo più casino, più... più... più casino. Ciao, ciao. Niente, niente da fare. Tu qua chi è? Niente. Sai che mi sistemo il caffè? Almeno il caffè... Ciao! Ciao, tutto bene? Ciao, sì. Ciao. Scusa, stai parlando del telefono, scusa. Tutto posto? Niente, mi ha cambiato. Niente. Proprio maleducato e manco dire ciao, buon anno. No, niente. Vabbè, capito che stanno cercando di dire... Oddio, questo. Non male che non la foto. Ciao, sento qualcosa. Ciao. Niente. Oh, che bella musica. Niente. Niente da fare. Ciao. Tutto bene? Non fare quella faccia, tanto non ti cago. Vabbè, niente. L'ho pagato. Non ti cago. Siamo in Italia, eh. Siamo in Italia. Vedi, preferenza Italia. E... E chiaramente siamo in Italia... Oh, guarda lì qua. Madre... Oh, che Cristo. Ciao. 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 Tutto bene? Ciao. Buon anno, eh. Buon anno. Buon anno. Ci vediamo. Ciao. Vedete, avete visto una bella ragazza? Purtroppo non sono riuscito a dire niente. Ciao. Niente. Che Cristo, però. Proprio un Cristo di un Cristo. Oddio, questo. Ma che foto metti? Ti metti una foto normale. Oddio, ma questi qui proprio... Nel senso delle foto da mettere. Mettete una foto, non so, di un paesaggio. Fatevi bella figura, sicuramente. Ma vedete sotto quale canzone... Oddio, ora che non è Halloween, eh. Oggi è il primo gennaio. Vabbè, guarda. Lascia perdere, non hai l'out. Lascia perdere. Chi sono questi? Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oh, ditemi che musica ascoltate, subito. Oh, dai. Buon 2000, sì. Buon 2000? Ah, 2000? Ah, 2014. 2014. Ah, fanculo, va. Questi qui parlano come... Ciao, ciao. Tutto bene? Tu sei molto bravo e andrai su YouTube. Te lo dico. No, basta, 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 basta. Buon anno, eh. Buon anno. Non male che c'è gente che è ancora simpatica. Ciao. Niente, non esiste gente simpatica, ho capito. Siamo qui. Oddio, questo. Ma che che è? Ma il gioio, eh. Ma un giorno vengo qui come una... Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Niente, questo è qui proprio a maleducazione e allo stato furo, cavolo. Questa qui che è? Lady Gaga. Piacere, comunque... Ciao, ciao. Tutto bene? Mi sentite? Fate così se mi sentite. Bravo, bravo. Meno male, almeno tu sei gentile e non mi fai il dito medio. Complimenti. Vabbè, dai, ci vediamo, eh. Ciao. Eh, scusa, non mi guardano. Cioè, potrei anche riuscire a fare un video buono. Ah, se vedete questa cosa qua è una cosa che mi sono fatto io, quindi... Non andate a dire in giro che ho tre occhi. No, dai, scherzo. Chi è questo? Ciao, mi fai paura. No, anzi, no, forse. Forse mi fai paura. Forse. Però, un pochino di paura mi fai, eh. Però, non tanto. Complimenti, comunque, perché sei piccolo e sei un bravo ragazzo. Auguri. Che mi guardava male, eh. Ho paura di questa persona. Eh. Ciao ragazzi, ciao. Mi sentite? Auguri di buon anno. Eh, io non vi sento però, mannazza. Purtroppo volevo parlare un po' con gente così perché oggi mi sento solo e così. Questo video volevo fare il giro del mondo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Sei uno. Ciao, mi senti? No, è il dito medio. No, sei un maleducato. Sei un maleducato. Ciao, sei un maleducato. Ciao, ciao. Ah, non ho capito. Mi fai il dito medio. Guarda teo. Che gente, che gente. Ieri, a proposito, ieri beccamamo gente con l'alcol, ma non a te pare. Ciao, sei molto... Niente, sei molto carina. Stavo per dire. Ma perché? Perché devo dirlo? Scusate. Non sto parlando da solo. Sto parlando con un pc. Sono un po' matto. Ciao, ciao. Auguri di buon anno. Monello. Monello. Allora, non ha senso. Questi cambiamoli perché mi stanno già sul culo. Già a vederli come sono vestiti, non è un problema. Non che io abbia i capelli messi a posto. Ciao, ciao a tutti. Niente, questi qui mi cambiano perché mi sembro un pervertito. Scusate. Ciao. Tu sì che sei un bravo ragazzo. Però non mi guardare male. Buon anno, eh. Buon anno. Buon anno. Finalmente qualcuno che mi risponde. Dai, ciao. Ma che lo dici? Eh, meno male. Sono tutti maleducati. Ti fanno il dito medio pure. Eh, mamma mia. E dove sei? Piemonte. Tu? Dove? Trino Vercellese. Fai vedere. Magica Bari. Forza Bari. Grande. Grande. Grande, grande. Peccato che un po' il Bari ultimamente sta facendo un po' così, però sono sicuro che ci salviamo, ci salviamo, dai. Capita. Ci salviamo. Speriamo. Speriamo. Dai, vado. Grazie, eh. Ciao. Ciao, ciao. Questo, qualcuno che c'è. Qualcuno che finalmente mi risponde e si può parlare tranquillamente. Ciao. Niente. Niente. Perché questi qui vanno a cercare le ragazze. Posso capire, ma non potete. Ciao. Niente. Se c'è da ragazzo che cercano i ragazzi, sicuramente non cercano me. Ciao. E' un po' così, ecco. sapete, la vita è molto triste, la vita è molto triste, la vita a volte è, cioè oggi si apre il 2014 e volevo prendere in un modo un po' originale, facendo un po' di video così, sulla vita di ognuno di noi. e io dietro non ho niente di particolare. Cioè c'è una finestra, giù si scende e c'è il salotto. non so perché cosa sto dicendo, perché sto aspettando, sto aspettando che qualcuno, che qualcuno mi faccia vedere. Ciao, 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 ciao. Niente. Mi spavento, mi spavento. Poi vi faccio vedere qualcosa di, non lo so, un po' qua c'ho i guanti, la sveglia, questi qua sono guanti presi anni fa, scusate, mi si è bloccato il computer. Chi è, chi è, chi è, non si vede niente. Ciao ragazze. Niente. Ciao ragazze, tutto bene? Niente. E' proprio la maleducazione delle persone. Ciao ragazzi. Ciao. Tutto a posto? Ma che stronzo, ma perché? Ma perché stronzo? Sono qui, tranquillamente, a fare un video. Poi vedete la vostra maleducazione su YouTube, non è che io metterò tutta la roba intera e se vi vedete il nostro YouTube, non stavo di goccia, non stavo di goccia. A me non me ne prende niente. Prima c'è una ragazza che si chiamava, la stavo cercando prima su Facebook, Marlen dell'acqua, qua la stavo cercando ma non esiste, quindi probabilmente mi ha detto una cazzata. Comunque eri molto simpatica e speriamo di ritrovarti qua, magari anche tra 5 minuti perché io ti scriverò che non ti ho trovato su Facebook. Non so, queste sono le cose brutte della vita, non ti ho trovato su Facebook. Io non sento nulla. Sto parlando da solo con un PC perché sto registrando, scusate. Non sento nulla. Voi? Sento poco, anzi niente. Infatti vedo nero, schermo nero. Perfetto. Cosa scrivo? Eh, niente. Di dove siete o di dove sei? Scrivo di dove sei. Ah, noi, ah è vero, noi, non avevo volerto, scusate. Facciamo di un app di tu, di amore. Buon anno. E, e. E niente. Non vi vedo, non so come siete, per cui... Ah, età? Le ragazze napoletane? Le ragazze napoletane... Sì, mi piacciono. Però sono impegnato, quindi non me ne prego. Sono venuto qui oggi a fare un video per metterlo su YouTube, va. Eh sì, così, ma ci passo il tempo, ecco, perché non so cosa fare. Vedo gente che si masturba e mi viene da vomitare, però alla fine va bene. Eh, il piacere mio. Eh, la mia ragazza... Lo devo ancora dire, no, perché... Ieri sono andato con un mio amico, abbiamo fatto sta cosa e oggi ho detto lo faccio da solo. Però glielo dico questa sera. Niente, stavo dicendo che glielo dico stasera. Dai. Ora vado. È stato un piacere. Buon anno, eh. Ciao. E te? Qualcuno con cui parlare di solito c'è. Ciao, tu sei di 17enne, anch'io. Hai fatto che tu hai una foto. Ciao. Niente. Perché non sono venuto sul chat urlette per vedere ragazzi. Sono venuto sul chat urlette per fare un giro. Per vedere che gente strana c'è. Ciao. Tutto bene? Mi senti? Fai sì con la testa se mi senti. Mi senti? No. Vabbè, ciao. Perché non voglio... Non ti sento. Io non ti sento. Niente, mi è cambiato. Ho detto, perché c'è gente che non ha l'audio che funziona e io non posso farci niente. Volevo trovare gente sballata oggi alle 6.32. Ciao, mi sentite? Allora. Allora. Andate a lavorare. Ciao a Chris. No, no, no. Lavorare no. No, ancora voi. E c'è crisi, appunto. Io sono disoccupato. Devo cercare lavoro, cavolo. Sì, invece, devo andare a lavorare. Devo andare a lavorare, però ancora vado a scuola. Ancora vado a scuola, per fortuna. Sento. Stavo a dire, ok? Non ho capito niente. Spero. Vabbè, dai, basta. Con le bambine non voglio di parlare. Ciao, ciao. No, no, Dio. Tu no, eh. Assolutamente. Guardate, che gente. Gente che dice andare a lavorare, come voi. Ciao, ciao. Di nuovo lui. Di nuovo lui. Ma non c'è gente nuova. E tre ore che becco sempre la stessa gente. È una cosa assurda. È una cosa agghiacciante. Io, quando metto questo video su YouTube, farò il giro dalla periferia, perché nel mondo, direi, fare il giro del mondo io, io potrei fare il giro del mondo solo pensandoci. Però, intanto, se cerchiamo, mi fate un piacere. Cos'è, cos'è sta roba? Cos'è? Dimmi cos'è gay. Ma perché gay non sono gay? Sono fidanzato. Porca troia. Vabbè, basta. Andiamo via, va. Andiamo via. Che gente maleducata, oh. Che gente maleducata. No, tu no. Adesso non chiamo maleducata. Ciao, si sente un rumore. Cos'è che stai facendo? Niente. Niente. Sono qui per farvi vedere che io non sono gay. Che cazzo dico? Ma è ovvio che non sono gay. Non sono qui per fare questo video. Ormai sono da 6.34. Con questa voce che non stiamo allendendo l'acqua, no? Perché mi interessa lei. Mi interessa perché l'ho conosciuto. È stata una ragazza simpatica che ha voluto dirmi come si chiama e non la trovo perché mi è accaduto molte volte questa cosa. Non su chatroulette. Se non le dei nomi non li trovavo perché ero troppo lontano. Solo per questo. Comunque tu sei un omino molto bello, ma molto bello che adesso cambiamo. Anzi no. Mi è cambiato due. Mi è cambiato due. Ciao. Niente. E mi è andato se risconnessa la vita. La vita va così. Tu sei un sex symbol. Quindi ciao. Io voglio trovare solo gente brutta. Come no. Uno prima mi ha scritto sei brutto. Non so se è uno o una. Però. Lo so che sono brutto. Però ragazzi. Su. Dai. Un po' di... 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 Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Tutto bene? Sì. Meno male. Buon anno eh. Buon anno. Ma perché gay? Non sono gay. Basta. Porca troia. Mi fate proprio incazzare. Ma tanto. Quando sarete su YouTube. Siete su YouTube tra un po'. Perché metterò il video. Quindi. Siete proprio dei coglionazzi. Sì. Vabbè. Quando finirete su YouTube. No. Sto scherzando. Vabbè. Niente. Vi saluto. Ciao. Hanno avuto paura. Hanno avuto paura. C'è gente che si crede al di sopra di quello che è. Mi sembra molto sbagliato. In una società che... Ormai è andata a puttane. Possiamo anche dirlo così liberamente. Perché non dico il senso di scrivere. Ciao gay. Invitemi il senso. Me lo scrivete qua sotto. Ciao. Forza... Forza Bari. Forza... Ma queste facce un po' così mi fanno un po' preoccupare. Molto. Molto molto preoccupare. Poi la TV che avete dietro... No. Adesso scherzando. Buon anno. E... Buona continuazione. Buona continuazione adesso. La mia madrelingua. Padrelingua. Topped. Becoy. Five. Connection. Limit. In the last one minute. Has been... Excited. Non so se... La pronuncia è giusta. You can check your internet connection and retry within the next one minute. Un minuto. Perché un minuto? Perché un minuto dura un'ora? Dialetto inglese. Ciao. Tutto bene? I cazzi non mi interessano. I piedi non mi interessano. Due parole. Niente di più. Buon anno. Sono due parole. Buon anno. Stavo solo leggendo quello che... Appunto è chiaro che cazzi non ti interessi. Per fortuna. Non credo che... Cioè ci sono cose molto più belle nella vita. Ci sono ragazze. Ce ne sono tante. Quindi per favore. Ciao. Parli anche inglese? Brava. Io... Più o meno. Non so se mi senti. Io... Non ti sento. Quindi... Asking. Welcome. Is broken. I've got pictures on Skype. Quindi ho capito che sono qui. Ciao. Mi sto stancando ragazzi. Mi sto stancando di questa vita. Proprio una vita brutta. Una vita brutta questa. Ah. Ciao. Ciao. Come stai? Sto mezz'ora cercando tip. Non c'è nessuno qua. E infatti non c'è nessuno di educato. E' quello il brutto. Cosa? Non c'è nessuno che ti risponde bene. Capito? No. C'è. Ciò che ti fa il dito medio. Sai ma si può. Non capisco un cazzo. Come non capisci? Adesso capisci? Solo lui non mi capisce. No. Che dito. Ciao. Niente. Capito che non capisci un cazzo. Come doesn't work here. If you wanna play on Skype. Admi. Ah ti devo giungere su Skype? No grazie. Per favore. Poi c'è scritto 18 più in ho 17 e 11 mesi. Oh madonna mia. Oh madonna mia. Scusate mi si è bloccato un nuovo pc. Oddio ma che foto fate? Ma cosa mettete queste foto qua? Ma dove siamo arrivati? Mamma mia basta. Dai cambiamo. Ah madonna mia. Ma quando vedo queste cose. Siete ancora qui? Ma cosa state facendo? La lotta libera state facendo voi? Guarda vi lascio sole. Ma se con la lotta libera state facendo? State facendo la lotta libera? State facendo la lotta libera? Sembrate proprio malate ve lo dico eh. Quanti anni avete? Non lo so. Dite qualcosa. Non so qualcosa. Va palestrato. Bravo. No. Non so effettivamente quando prima quella ragazza mi ha chiesto. Non so se era una ragazza. Ti buscano napoletane. E le faccio. Sì però. Cioè sono già fidanzato. E spero che. Dove di più. Il più possibile. Oddio siamo ad Halloween già. Cioè ieri era Capodanno. Oggi Halloween. Che è sta roba. Quando andai su YouTube. Ti rivedrò e ridrò mille volte. Dai. Ciao. 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 Mi sentite? Io sento un casino della madonna. Oddio. Oddio. Ciao. Ciao mamma. Ciao. Ciao mamma. Ridete piano. Ridete piano. Ridete piano. Ridete piano. Ciao. Ciao a tutti. Io non sono qui per... Sì. Ma ma come c***o? Cioè volevo parlare. No no tu no grazie. Ciao. Sistemati bene prima di parlare. Niente. Niente. Oh la webcam. Non si vede più niente. Ciao. Niente. Questa era una ragazza un po' strana. Ciao. Non ho bisogno di vederti. Però vabbè. Quanti anni avete? Sei? O cinque? Ciao. In due fate ventidue anni. Mi fate. Ma qualcuno. Questa è l'educazione che vi ha insegnato. Dai vai vi dico una cosa. Finirete su YouTube. Ok? Ve lo dico adesso. Mi sono spaventati. Mi sono spaventati. Mi sono spaventati. a quei due. Finirete su YouTube. Mi hanno subito eliminato. Perché hanno paura. Poverini che poi la loro mamma è poverina. Cioè dai. Su ragazzi. Ma su. Ma dai. Quanti siamo? 25 minuti di video. Facciamo una breve pausa. Arriviamo fino a mezz'ora. Facciamo una breve pausa. Lo carico su YouTube. E poi. E poi. E poi. E poi. Ma perché sono solo qua? A fare casino. Non so che cosa fare. Che ne so. Che ne so. Che ne so. Che ne so. Ah. Aspetta. Ma tu. Tu non sei una persona avversiva. Voglio vedere un po' di faccia. Un po' così. State disturbando un po' la piedra. Ancora voi. Basta. Vi ho già visto una. Ah no. Non siete voi. Vabbè. Ciao. Buon anno. Ai cappelli. Sì. Sono. Sono tanti i cappelli. Scusate. Cosa fa? Questa si lava i denti. Scusate. Mangia. Aspetta che mi fissi i cappelli. Scusate. Ma. Bisogna fare anche operazioni di restlining. Ancora questo gay. Basta. Ma basta. Facciamo finta di non aver visto va. Anche perché non ho visto niente. Ancora voi. Ancora voi. Basta. Mi avete rotto. Sto scherzando. Sto scherzando. Buon anno. Chi dice. Natale. Che è già passato. E Halloween. Con chi state parlando? Guarda che sono geloso. Non so se sentono. Se vi faccio così. Ok. Anche te. Palermo. Parliamo con il tuo suoro. No. Mia suora. Vabbè ragazzi. Finirete su YouTube va. Io vado. Ciao. Ciao. Sono le 18.45. Sono le 18.45. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Niente. Gente proprio che. Qua però. Ma lasciamo perdere la grazia. Oddio. questa. Ma perché? Ho capito che non sono gay. Però. Su dai. Un po' di pudore. No. Sempre. Preferences. Preferences. Ciao. Si è appena svegliato. Poverino. Guardate che. Io sto morendo di freddo. Oh. Ciao ragazzi. Sto morendo di freddo. Sto morendo di freddo. Come faccio? Niente. Vuoi vedere che qualcuno riesce a trovare. Eh. La soluzione. Che sto morendo di freddo. Ha ragione. Adesso vado. Ciao. Ciao. Tutto bene? Ciao. Mi senti? Mi senti? Ti saluta Polotelli. Scrivi? Vieni. Prima scrive. Poi boh. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Basta. Ma questi qua non so. Ti facevano il dito medio subito. Lo sapevo già io. Ciao ragazze. Auguri di buon anno. E auguri anche di Pasqua. Ve li faccio in anticipo perché non so se direi. Auguri. Auguri. Ciao. Ciao. Mi sto rendendo ridicolo davanti a queste persone. Ciao. Ciao. Cosa fa questo? Ma cosa sto facendo? Ma dove si ha? Ma lascialo stare. Povero pappagallo. Povero pappagallo. Ah ma next picture. Cioè ha messo un video? Ragazzi mi state preoccupando. Lo sapete? Ciao ragazzi. Devo ricordarmi una cosa. Che alla mezz'ora che vi amano. Ok. Ciao ragazzi. Siete gli ultimi. Ciao. Aspettate ma. Lui. No. Tu. Niente. Vi saluto. E vi auguro un buon anno. Vi auguro un buon anno anche a voi. E chiudiamo tra poco. Ciao ciao. Sperate che stoppiamo. Tu tu no. Stoppiamo un attimo. Bene. Vi saluto. Ci vediamo tra poco. Grazie a tutti.